il fatto che tutta la faccia qua non mi piace molto eh, ma te lo dico così che lo sottolineiamo ma io ho trovato già lavoro, ti do questa altra novità, ah qui sei tu che dà la notizia a me, quale lavoro? Guardiano tramite un amico, aspetta, è un guardiano nei cantieri a Santo Spirito Palese, mille euro messo assicurati a tutti, non fai un cazzo. Già parti male non fai un cazzo nel senso vuoi dire che devi stare l'altro, non fai sforzi, sarebbe il lavoro ideale. Ma in questi giorni devo andare in ufficio l'amico, parlo con il responsabile, ripasso il numero e poi mi chiamerà. Ma sa chi sei tu, sa tutto. Anzi se volesse parlare anche con noi, volentieri, lo incontriamo. Occhio vigile. Prenderò più di te. Ah, sicuro, sicuro. Più di Tino e più di me. Tino, mettiti più dentro perché sennò ti faccio da solo. La vita che cos'è, se facciamo un passo indietro non riconsi Tino. Capito? La vita che cos'è? Se davvero vai in porto sta cosa e ce l'hai fatta da solo, c'è un grande. Ma fatti il video non mi piace, te lo dico proprio perché non mi piace. Ieri mi è arrivato il messaggio, il bacetto allo spacci perché stavi con lo spacci, non che stavi comprando, io stavi salutando lo spacci. Capito? È una cosa. Perciò pure con te non ti dobbiamo mangiare. Io spaccio emozioni, io spaccio sentimenti, pure lui spaccia. Una volta stavi un scippatore di emozioni, un bocciatore di emozioni. Parliamo di cose importanti, sei andato al servo? Ti ho accompagnato io al servo, ma poi ce ne siamo dovuti andare. Qual è stato l'esito mitologico di questa visita? Che non è servito un cazzo secondo me. Perché? Che sei venuto a fare. Ma che sei? Non c'avevo niente da fare stamattina, mi stavo rispondendo. Vabbè forse perché non c'erano tutti, quindi eravamo... No, non c'erano una scena. Vabbè, ti hanno dato appuntamento per il tuo psicologico? No, mi devono far sapere quando devo andare perché non c'è una data ancora. Vabbè, noi ci ritorniamo, non appena... Lunedì mi chiamerà la c***a, mi dirà tot giorno andrai là, dove mi... Per fare il tuo psicologico. Però per sentirti, per ascoltarti sulla vita tua, le stronzate che potresti ancora fare, che hai fatto, che non farai, no. E che continuerà a fare? No, speriamo di no, non gli auguriamo di rifare stronzate. Anche voi che noi, il laboratorio per fare il tuo psicologico completo, ci scoccia che è a pagamento. Però l'abbiamo trovato. Tanto abbiamo fatto che l'abbiamo trovato. Ma guarda, quei soldi... Tutto bene? Tutto bene, vedi? Conosci Giovanni? No, non conosco. Ti presento, Giovanni, come ti chiami? Tasha. Tasha, molto lieto, mi raccomando, occhio a Piazzumberto, ci vediamo. Sentivamo la necessità. Ovvio, perché... chiedevi serfi, la... Ciao, ciao, ciao. Giovanni, ecco perché non volevo farlo qua, capito? Non solo per la presenza di brutti ceffi, ma anche perché stai in vista e quindi lo conde, lo conde. Tino, ti desti i bacetti, Tino, ma a te, che stai là immobile con la telecamera. Vabbè, quindi, cert, così, così. Ma non mi convince, nel senso, non mi convince ciò che mi hai detto, non mi convince il fatto che dobbiamo fare qualcosa, perché devi comunque andare da qualcuno. No, ma basta me tu. No, non noi, noi che ne sappiamo di queste cose. Non ma basta me tu. Tino, Tino non sa come si chiama molte volte, che ormai è caro Tino, Costantini, non si capisce. Orecchino. Orecchino. Fermo, 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 fermo. Lascialo perdere, quella è stata una cosa, era sotto l'effetto delle emozioni che le avevo spacciato io. È vero, Tino? Sì. Chiudiamo il discorso. Un boc di sconotolo ciò. Ecco, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Quindi questa storia del lavoro mi ha... No, se va in porto, speriamo. A che porto? Il San Nicolo. Il porto sicuro, se dovesse essere porto sicuro. Ma chi lo porta? Ah beh, andrà lui da solo, con la... Con l'Amtob. Con l'Amtob, con la navetta. Con l'incazione di Conte. Ci sono tanti passaggi che può prendere. È vero, c'è tanta gente a cui puoi chiedere un passaggio. Mamma mia grazie. Lo conto è taxi. Andiamo a fare la medicazione. Perché dobbiamo capire che cosa è successo nel frattempo. Oggi sta toccando troppo. Te sta paciab... Va bene, Rava. È polvera. Stamattina non me lo vede tanto bene, direttore. Tino? Grazie a tutti.